ehm... no un rilascio è un altro zombie rosso, ci si riprova comunque io gli ho sparato prima in testa, ma mica l'ho preso in testa, vedi vedi che è difficile vado... ehm... flash light mob, prendilo vai così ti puoi... posso continuare a moddarmi... ah no posso solo studiarla vabbè... ha diventato la pistola del joker la tua, il cannone peccato che non la posso fare al volo, che serve per farsi la flashlight sulla pistola? sempre uguale, sempre i... metallo, ok abbiamo queste casette... dei buchi per topi a questo li hanno sfondato a casa mi sa, no? si, si, si... oh c'è un tizio lì dietro! dove 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 dove? no eri tu... ha fatto cacare addosso sei tu questo, si, no no non ce l'è nessuno, e tu fai il giro! pota di lag e disumano... ehm... si, è vero ok, ehm... andiamo a vedere queste casone più grandi, ma tanto sono chiuse, inutile no, chiuse fino a un certo punto, vedo che c'è una finestrella lì, no, con le grate, cazzo! mi hanno messo le finestrelle con le grate in questo gioco, non si entra più da nessuna parte ma dici che metteranno mai la possibilità di disegnare sulla propria casa, tipo di farci degli stemmi? beh, per forza, perché se no, anche sugli abiti è impossibile riconoscersi in questo gioco, se no... per farci, tipo, una pittura tribale con il simbolo del clan, sarebbe una felicità venendo da garris mode ci sta che ci potrei mettere proprio lo spray personalizzato, una cosa lì oh, ehm... quello è un play giocatori, 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 giocatori attento eh, attento eh, molto attento Lion si, tranquillo, si va veloce, veloce veloce ma che veloce? corri, avvicinati ma che... ma mi devo far morire? si fa così a non sparare, non sparare come non sparare? eh no, c'hai tre colpi, che spari ma è qua, sono qua, sono, guarda, sono qua dietro aspetta, aspetta, non ti fai dire li vedi? leva il puntatore luminoso, levalo con G allora, vanno presi, se si prendono vanno presi alla testa ma dove sono andati? dove sono? li ho persi di... eccoli segui bene appena si fermano, colpa la testa vai, spostati di frasca in frasca il problema è che scatta troppo sto gioco, è un casino prendere la mira eh, specialmente se corrono serviamo noi leggermente avanti nel futuro, aspetta oh mio, ti immagini se li ammazziamo e moriamo oh, hai uno zombie dietro ammazzalo ahia oh merda ah ora ci hanno sentito, eh ok, si, io ho anche finito i colpi e... sono andato in panico ora ci hanno sentiti occhio, molto occhio vieni, vieni ehm io ho solo un proiettile rimasto te fa finta di essere prigioniero stai davanti al mio faccio non vi muovete o lo uccido il vostro amico ma chi sei l'erogliela frena o cazzo? vabbè sei l'erogliela frena o cazzo? vabbè sei l'erogliela amico no ma chi li conosci? sono andati... sono andati in red town mi sa che non ci hanno sentito, sai? no, ci hanno sentiti per forza ehm... oh, ora un po' di risorse ci sono secondo me sono andati in red town si, qua è pieno guarda orsi di tutto vieni, vieni con me si va dietro la città vieni dove sei andato? su strada le mure della città vedo una roba verde quello è un altro player mi sa dove? ehm... stava entrando nella città dall'altra parte c'era verde o un player che c'ha la tua tante radiazioni? occhio eh eccolo, eccolo lo vedi? andamolo a ammazzare vieni, vieni, vieni aspetta c'è del loot eh merda sto arrivando, sono dietro di te stai a vedere se ci ammazza lui a noi eh? stai a vedere... madonna ma qua è pieno di radiazioni è proprio radiato eh? attento gli vuoi sparare? lo ammazzo? ma certo che lo ammazzi ma che domande? sei sicuro che lo devo ammazzare eh? sono certo poi mi danno contro non importa si si penserà conti fatto sto scappando vagli, vagli sto scappando ammazzalo con la citta se lo trovo volentieri dove cazzo è andato? pacco di merda è scappato via sto scappando aspetta lo gambi no, vannoci fermo è montato sul tetto è montato sul tetto io vado da dietro no, non c'è l'uscita vaffanculo dove cazzo? fermo, mano in alto oh, e scappa è qua, è qua ma che? l'anello l'anello no, monello come monello? prendilo, sta girando sulla strada ok, vado dall'altra si, vabbè questo è scappato in culo ormai la cazzo? eccolo è mai armato mi sa, sai è armato, è armato c'ha la citta anche lui è possibile prenderlo porca puttana eh ma porca tricca monello madonna, mo lo prendo a piccolata nel culo veni qua preso, vai l'ho colpito sta sanguinando aspetta, blocca blocca vaffanculo, fermo si, si, sta sanguinando perché l'ho colpito per forza eh, va bene, va sul te eh, ma si cura tanto eh, si cura se c'ha le bende no, si curarsi no si mette di sanguinare eh, lagga troppo sto giochino è possibile prendere la mira eh, abbastanza scatticchia ma senti, ma in questa città radioattiva noi non ci moriamo? eh, oh, mi sta picchiando con la citta sto stronzo oi, ti vengo in soccorso dove sta? di qua di qua di qua aspetta, faccio il giro zombie, c'ha anche uno zombie dietro eh, ora ce lo prendiamo noi però mi ha anche rotto i coglioni eh a te io al solito non c'ho mira eh, io nemmeno perché ho preso, ho preso è morto c'è uno zombie però eh no, non è morto perché in questo gioco siamo immortali oh, ma fra qui non mori di radiazioni eh a parte vabbè, c'ha la tuta quanto, quante quante radiazioni possiamo sopportare senza morire? 400 e poi inizia a scendere la vita io sto a 250 aspetta, sta girandone di qua, aspetta lo prendo di faccia io ho fatto di eh si è fatto un episodio per uccidere uno sparagli cazzo e sparagli la sega dai, è entrato dentro l'edificio non può più apri la porta, te lo uccido morto oh ma Dio, che rivediamo che aveva uh qualche colpo della mia pistola il resto te lo lascio a te attento oh Dio, zombie oh, prenditi tutto morto oi, che cacchio di diavolo sta prego, prendi preso e qua c'è la sua roba oh, vieni, vieni, vieni ci sono dei proiettili per te vieni a prendere e qui dei proiettili per te tieni, te l'ho buttato per terra ah, e tu prendi da lì oh, wow eh, qualcosa c'aveva cioè, c'ho anche la tuta antirredazione no, non sono proiettili per me questi sono per il fucile a pompa ah, e tu non hai un fucile a pompa, scusa no, non è qua fa rumore di fucile a pompa vabbè, vabbè andiamo via oh, c'è uno che è nudo è sempre lui no, non è lui è un altro non lo prego vabbè, andiamo via senti io sto morendo proprio cioè, c'ho quasi 400 via, via, via via da qui insomma, una piccola... corri, corri saluta il tubo ecco, come mi hanno visto? direi via è successo un casino è successo non devi scrivere non devo non devi scrivere te la butto in culo lo stavo per dire io lo stavo per dire io dove sei? ecco qua sono scappato sto male sto male di radiazioni scendono non è che ora tipo domani mattina mi sveglio con un altro piede nel culo ehi, c'è un tizio dietro ma perché spari? perché sparo? come perché sparo? ma ha sparato lui ma che ne so ho sparato io wow, questo era messo benissimo guarda e ma la roba attento, dalla finestra la roba ah ma la roba quello la cazzo io la voglio ma che roba è? è la roba anti radiazioni gli ho fregato parte oh sta per arrivarsi amico aspetta corri dan ho un mitra e una pistola e un munizio mi sono cambiato d'abito eh sono verde io adesso vieni via, seguimi, seguimi seguimi, seguimi ma la roba quello la io la voglio l'ho già presa io no ne altra vieni via io voglio la roba ti ho detto allora fermo fermo un attimino vieni qui dove sono io qua giù giochi di luce e vabbè sono qua, sono qua andiamo vieni vieni seguimi ma che cazzo da dove ci sparano da siamo qui eh vieni qui madonna ci ho guadagnato un set di armatura radiattiva guarda va allora fermo, fermo ti muto una cosina bella prenditi più 37 munizioni per la tua pistola madonna e io ho trovato un mitrino allora è vero che hai preso tu da quel tizio bravo pensavo che non l'avessi fatto in tempo io ho preso tipo la mp5 ah che bene scappiamo scappiamo andiamo via torniamo a casa torniamo a casa che dici torniamo a casa si si direi che questo giro è stato ci odieranno dopo questo video eeeh perchè mai fornano alle spalle e ti avrei già sparato no? via via lascia l'urso scappa oh e perchè te lo ho detto la maggior parte dei giocatori di questo gioco vogliela spiegare tu spiegagli che sono io io sono un sacco di merda e io li ammazzo va bene ma anch'io sparo e ammazzo però ti ripeto vagliela a spiegare eh lo so è la cosa bella e brutta di questo gioco che la gente si incazza scusa allora tu devi anche ragionare una cosa cioè io non c'ho un cazzo te sei pieno di roba ma secondo te ma io non ti ammazzo zombie no non tu 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 lui ah tu lui nel senso tu quello no quello è pieno di roba io non c'ho un cazzo ecco io non c'ho un cazzo cioè che ha questo? kevlar boots oh io non ce li ho questa qua fammela studiare abbiamo fatto incazzare anche quelli li eh hai visto? chi sei chi sei chi sei che non parli e spari giustamente lion è l'uomo che non parla prima spara e dopo pensa bellissimo ma senti eh io sono abituato a Daisy a Daisy se parlano ti dicono friendly e poi ti sparano e poi ti sparano quindi è meglio che spari no qui qui è diverso devo spezzare una lancia a favore qui è leggermente meglio di Daisy nel fatto che se trovi uno che dice friendly oh mi si arrota aspetta mi si arrota l'holocyte Coridan come ti si arrota? ah no ce l'ho ancora ce l'ho ce l'ho perché di giorno non si vede però se uno in questo gioco ti dice friendly nella maggior parte dei casi è friendly davvero difficile eh cioè non è proprio trunce come Daisy ho capito ho capito vabbè io 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 non lo so io ammazzo te ammazzi e poi io c'ho bisogno di avevo bisogno di un paio di pantaloni nuovi quindi quel tizio ce li aveva mi piacevano mi stavano me li son presi ti hai cercato il sangue però poi il lavoro sporco l'ho fatto fa a me perchè so io che ho ammazzato la gente no quello la l'ho ammazzato io ci ho sparato 5-6 colpi l'ultimo l'ho ammazzato io chiude qui in mezzo alle rocce? ehm ma si perchè no quanto avremmo registrato non si sa ma io direi che frangerete tutto una ventina di minuti sono venuti sicuri forse qualche sia di più va bene allora chiudiamo qua ehm vi auguriamo una buona giornata speriamo che vi sia piaciuto la nostra oh lion c'è un giocatore con l'arco aspetta prima di chiudere si ammazza vieni vieni aspetta vieni con me vieni con me e se ora ci shot è tipo una mira esagerata si vabbè l'erciolas no ci ha visti occhio cazzo scappa che c'è? eh sparagli eh tipo 6 kg io non lo prenderò mai da qua preso occhio eh preso due volte io vado io corro no vabbè troppo lontano dai è andato via eh si fermerà prima o poi no? non penso quando c'è uno dietro che ti spara non ti fermi eh ti funzionano bene le gambe dici in quelle situazioni beh si 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 no lasciano stare se non lo insegui classico potranno a casa escono un quattro e ti uccidono eh si sta andando ancora vabbè vabbè facciamo guarda sono proprio dietro di te sono qui ok vabbè chiudiamo quindi? vai si ah bene ok quindi speriamo vi sia piaciuta la nostra furia carnefice e vi auguriamo una buona giornata se la giornata di oggi dovesse essere finita mentre lo trovate in questo video guardate quelli domani Lion e Coridan out ale ciao 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 ciao